Sono Paolo di Trapene e insegno l'ottica. Ma cos'è roba di occhiali? In mezzogiorno d'agosto a Marsala davanti a te il mare con miriadi di abbaccinanti riflessi e cogli nel campo un pomodoro. Lo raccogli, lo spolveri, lo avvicini al naso, gli osservi attentamente il profumo e poi coi denti un bel morso. E se c'è del peperoncino l'intorno o del sale, anche l'acqua di mare, non lesinare. Eh sì, è il sole che l'ha fatto così, quel sole che adesso ti abbaglia. E quindi i tuoi Polaroid. E poi un secondo morso di nuovo. Se lo gusti diverso, allora ottica è il corso per te. E se lo gusti uguale?